Mamma mia, sta troppa gente ragazzi Tutti Morto dopo 0,016 Ma non ci sono armi Wow, io oggi ho fatto una malattia esagerata Ho messo la Claymore a terra, uno che mi inseguiva, non tenevo niente E' morto sulla Claymore Incredibile Uuuuh, e siamo a tre Ah, guardiamoci questa bella partita